Diciamo che è una lista forte, fatta veramente bene, che vede un parlamentare uscente, Sergio Berlato, un assessore della giunta a Zaia, Elena Donazzan, due consiglieri regionali, di cui uno segretario di partito, Luca Spavanetto e Daniele Polato, tre sindaci, un parlamentare come Maddalena Morgante, quindi credo che a chi dice che Fratelli d'Italia non ha classe dirigente, rispondiamo con questa lista. Ostenta sicurezza il numero uno dei meloniani in Veneto, che presenta con orgoglio la sua squadra, fatta per lo più di amministratori, cui si aggiunge, dopo quel chiamatemi Giorgia pronunciato domenica scorsa a Pescara, la Premier. Per De Carlo sarà effetto traino anche a Nord-Est. A capolista c'è il fenomeno Meloni, che sarà sicuramente la più votata anche in Veneto, e che rappresenta la garanzia di una lista forte, soprattutto del fatto che andremo in Europa a cambiare l'Europa come abbiamo e stiamo cambiando l'Italia in questi 18 mesi. Ma c'è già un caso di inserimento in lista, subito dopo la Premier, dell'eurodeputato uscente Sergio Berlato, finito nella bufera per aver partecipato a un convegno Novax pochi giorni fa. Mi pare che stia creando un po' di imbarazzo a sinistra. Ricordo a tutti che Berlato è parlamentare europeo da cinque anni. Se si sono accorti adesso, perché abbiamo depositato le liste, che esiste Berlato, vuol dire che sono stati un po' distratti. E nel merito? Nel merito assolutamente. Berlato esprime una sua opinione personale. Non vedo perché dovrebbe essere soggetto a censura. Sminato il campo, è tempo di programmi. Questa la priorità a Nord-Est. La voce degli imprenditori, lo è sempre stato per noi, il fatto di non contrapporre l'impresa alla sostenibilità ambientale, che per noi è sempre stata una battaglia. Abbiamo cercato di porre un freno a questa maggioranza ideologizzata, che ha di fatto messo imprese e ambiente contro.